Domani 21 aprile deve uscire il primo DLC di Titans Wonderlands ed è uscito il trailer. Il DLC si chiamerà Coilet Captors e quindi analizziamo il trailer per vedere cosa c'è. Era già stato fatto un piccolo annuncio su cosa dovrebbe contenere e partiamo con le delusioni. Ancora una volta, stesse tipologie di nemici già presenti nel gioco, nessun nemico nuovo nel senso nuova specie di nemico. Già mi dà fastidio. Abbiamo poi il boss che, come era stato detto e come vedremo poi confermato, si evolve nel corso del tempo. Teoricamente ogni settimana dovrebbe diventare più forte o diventare diverso. Ora, altra delusione almeno da parte mia. Come vedremo nel trailer, ha questa sorta di armatura sopra. Vedremo in molti spezzoni del trailer un'armatura diversa da quella che vediamo adesso. A volte c'è, a volte non c'è, a volte dei pezzi che mancano, eccetera. Credo quindi che siano quelli i cambiamenti. Quindi non si evolve. Ha un'armatura diversa. Quindi noi che potevamo magari aspettarci qualche sorta di mostro che si evolveva e diventava sempre più figo, cosa del genere, no. Uno squalo, tra le varie, solito nemico, che riceve un'armatura eterea. Che, boh, a volte c'ha dei pezzi, a volte no. Quella sarebbe l'evoluzione. Non mi sta piacendo. Comunque, vediamo qui. Vedete che ha un'armatura diversa prima. Adesso ha, sì, l'elmo che aveva prima, ma le parti laterali sono completamente scomparse. Vedremo poi il motivo. Abbiamo poi i nostri personaggi. Vediamo un nuovo sprizzo di map. Ora, teoricamente parlando, questa fa sempre parte di un dungeon. L'intero DLC dovrebbe essere un dungeon. Quindi entriamo in quella sorta di mappa hub dei DLC che abbiamo visto in un video precedente. Entriamo nella sezione di questo DLC, dove dovremmo avere un dungeon con probabilmente questo livello, il livello delle sabbie e poi lo squalo. E quello è il DLC. E una volta sconfitti dovrebbero aggiungersi alla Camera del Caos come livelli possibili tra le combinazioni. Stanno puntando veramente troppo sulla Camera del Caos. A parte che comunque vedere delle serpi in mezzo alle nevi è la cosa più... Perché? Sono animali a sangue freddo, cosa ci fanno in mezzo alla neve? Datemi dei bulli, mong, in mezzo alla neve. Perché devono esserci questi? Cosa c'entrano? Dal deserto alla neve? Cioè non... Ah! Vedete di nuovo stessi nemici, sempre squali. Come vi dicevo prima, è una sorta di arena e qua lo potete vedere bene. È una sorta di arena. Speriamo che il DLC contenga anche altro, ma visto il costo di soli 5 euro a DLC mi sembra abbastanza difficile. Abbiamo qui anche un po' di testo che appunto ci dice buttati all'interno di un dungeon congelato. Abbiamo visto prima il ghiaccio, abbiamo visto qua un villaggio desertico però con la neve. Libera è il dio pazzo. Vedete che adesso ha l'elmo che è diverso da prima e non ha altre armature, quindi era quella l'evoluzione di cui vi parlavo. Almeno il boss ha una mappa completamente diversa, però sono sempre squali. Sono tutti i nemici che abbiamo già visto e hanno sempre gli stessi pattern. In più c'è stata la scritta, adesso ve la faccio rivedere, che diceva ogni settimana la sfida si evolve. Semplicemente avrà dei pezzi di armatura diversi, come vi ho detto prima. Vedete che anche qua di nuovo un pezzo di armatura diverso e non ha niente addosso. Poi c'è ovviamente del nuovo loot, che anche lì vedremo cosa ci può essere di nuovo loot, perché quello che Wanderlens avrebbe bisogno è nuove tipologie di magie da zero. Qua vediamo un'arma unica che spara dei D20, molto interessante. Vediamo un lancerazzi che ce ne sono pochi nel gioco, meno male. Vediamo questa magia che ha lanciato un pacchetto di dinamite. Ok. Abbiamo dei nuovi cosmetici, di cui ce ne può affergar di meno, detto sinceramente, però magari ha qualcun interesse, meno male che sono inclusi. Queste sono sempre le solite magie che abbiamo visto prima. Sempre un lancerazzi che abbiamo visto prima. Facciamo notare un dettaglio su quello squalo che ha un salvagente, per qualche ragione. Vediamo di tornare un attimo indietro, ecco qua. Non un'armatura ma un salvagente. Vabbè. Qua vediamo che ha un'armatura completamente diversa, come quella che abbiamo visto a inizio trailer. Vedete, quindi è questa l'evoluzione, purtroppo. Nuovo lancerazzi che non abbiamo mai visto. E quest'arma che avevamo visto anche nel trailer precedente, sui DLC, che quando viene lanciata diventa un D20. Però non ha fatto esplosioni, ha attraversato il nemico, quindi... Non lo so. E poi la scritta... Non c'è neanche una gran traduzione italiana, detta sinceramente, però questi sono quelli che hanno catturato il Dio. Quindi... Boh. Questa è quindi la copertina, diciamo, del DLC, che può essere acquistato singolarmente, può essere preso gratuitamente se avete Season Pass, oppure potete comprare l'edizione Caotici Veri, che comprende anche questo DLC. Speriamo che i prossimi siano più interessanti, perché se devono essere 4 DLC che aggiungono 4 boss alla Camera del Caos, e una classe, l'unico DLC che ne vale la pena sarà quello della classe aggiuntiva. Vedremo cosa ci riserverà al futuro, e soprattutto vedremo cosa ci riserverà la patch gratuita che dovrebbe uscire domani insieme al DLC, e che, se andiamo di logica come Borderlands 3, le patch gratuite aggiungevano contenuti gratuiti al gioco. Magari qualcosa di utile, speriamo. Vedremo.